Dove l'hanno messa? Qui c'è la tazzina, qui c'è la caffettiera. E lo sapevo, manca la cosa più importante. E adesso? C'è qualcosa che non va. Ah, buongiorno eccellenza, è che mi ero tanto raccomandato e alla fine manca proprio il caffè. Figliolo, ma qui abbiamo un ottimo caffè. Quale? Il caffè Paradiso. Scusi Pietro, senza offese, ma io ero abituato alla vazza. Quando stavo giù e mi andavo un caffè, mi bevevo la vazza e mi sentivo in paradiso. Adesso che sono qui non... Non è che lei potrebbe per caso andare? Ma certo! E magari vado pure al supermercato. Sarebbe un santo. E cosa dovrei... La vazza, crema e gusto. Un pacch... Anzi, due pacchetti, sa, le volte... Allora... È buono. È buono! È la vazza, eh! Com'è che si diceva più lo mandi giù, più... No, no, buono! Dove va? Venga qua! È che... Sama... 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 Sama...